Se tu non credi che ci sia una verità totale raggiungibile, ci va intorno, ci gira intorno e il girare intorno è la verità a quel punto di vista. Il pavimento è il luogo dove tu ti senti di essere sul pianeta, il luogo di contatto che hai con la terra. È molto bello per esempio andare a piedi nudi perché questo che viene su dal pavimento, su nei piedi e poi fino nella psiche o nel piacere sensoriale o che so io, il pavimento è importante. Questo lavoro fatto in quegli anni là, che sono mi sembra gli anni 70 più o meno, ha lasciato una traccia culturale per cui ancora oggi io, come dicevo prima, mi considero non tanto un designer che segue, come dire, le imposizioni della cultura industriale e cultura in senso antropologico, ma piuttosto imposizioni che riguardano il rapporto tra gli oggetti e le persone. Rapporto che è difficile anche quello da definire, difficilissimo perché a loro volto le persone sono condizionate da altre strade. Grazie.